Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Una condotta integra, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Un uomo sapiente sa operare bene e far fiorire bene il senso sociale. Si rende amabile, attento e degno di tutte le benedizioni di questo mondo perché ha una condotta integra. Sa offrire quindi un dono intenso, la propria vita per gli altri, per unire appunto le parti sociali, per dare speranza ad un mondo forte, renderlo pacifico e offrire una buona circostanza di fede. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Una condotta integra. L'uomo sapiente sa operare. Per far fiorire il senso sociale, sa essere gioviale e amabile per compiere opere degne di senso umile. Una condotta integra sa offrire un dono intenso con vitalità e al mondo saprà mostrare un vivo senso di saggezza e armonia. Una condotta integra dona un senso vivo di pace e speranza per una vita bellissima racchiusa in una buona circostanza. Una condotta integra, sacra, è la luce del mondo intero e con spirito di fratellanza la sua opera ostenta con impeto. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.